ariete pensate in grande in questi giorni siete predisposti alla positività e viene naturale espandere il vostro orizzonte mentale non solo anche la sfera sentimentale vede un momento di appagamento di assestamento se in difficoltà o nuovi interessanti incontri se single toro prosegue la fase di incremento delle vostre attività dei programmi che intendete sviluppare complice anche una buona rete di relazioni che adesso vi vengono incontro inoltre urano nel segno non può che spingervi verso le novità un iconeo un po di stanchezza gemelli venere favorevole incrementa il desiderio di lasciarvi andare al gusto del buon vivere rafforzare la sintonia amorosa ma giove opposto consiglia di rimanere nei limiti non eccedere nelle vostre richieste o manifestazioni qualche dubbio nel settore lavorativo cancro l'andamento del cielo astrale prosegue su ritmi effervescenti e positivi nonostante qualche freno imposto da saturno opposto ma prevale il senso di intraprendenza e determinazione che vi porta a eliminare ciò che non tollerate più scaricate le tensioni con attività fisica o terapie zen leone non è un periodo eccellente per voi è vero che giove in angolazione positiva agevola le vostre imprese tuttavia attualmente c'è molta irrequietudine nella vostra vita cambiamenti che arrivano improvvisi o un senso di soffocamento che vi inclina a rivedere alcune relazioni vergine siete in fase riflessiva meditativa densa di domande e ripensamenti cosa anomala per voi sempre così razionali e critici però interiormente cresce una vivacità che coniuga concretezza e idealismo portandovi a nuovi indirizzi mentali e conseguentemente a nuove posizioni da consolidare bilancia l'affetto astrale prevede una sorta di evoluzione interiore le pulsioni vengono contenute e frenate alcune situazioni possono cessare ma per produrre una migliore qualità delle strutture entro le quali vivete attualmente prevale il senso di condivisione socialità e una bella espansione affettiva scorpione momento molto utile per effettuare transazioni commerciali accordi di lavoro collaborazioni le idee sono chiare brillanti l'attenzione al dettaglio forse tuttavia dovete porre attenzione a come vi muovete a non eccedere nelle pretese perché possono intervenire fatti destabilizzanti che richiedono cautela sagittario le configurazioni che vi riguardano sono orientate al benessere amore e piaceri sono in primo piano anche se il periodo è pervaso da numerosi dubbi e qualche incertezza sul fatto di dover mettervi in gioco in alcune situazioni di lavoro o familiari consigliabile operare sempre nella legalità capricorno probabilmente dovrete rinunciare a qualcosa nell'attuale processo in divenire del vostro sistema di vita cambiamenti che infrangono le vostre barriere mentali un po rigide e possono creare qualche ansia ma produrranno ottimi risultati che faranno di voi persone completamente diverse acquario potrebbero avvenire cambiamenti in ambito familiare o nella casa dove abitate è una fase a tratti faticosa ma ricca di avvenimenti che appagano la vostra indole indipendente e originale venere in transito nel segno amplifica il desiderio di amare e consolida gli affetti pesci momento di evoluzione positiva molti sono i progetti che state elaborando a volte un po utopistici comunque sempre in grado di fornirvi una grande carica dinamica è il momento di ottimizzare le situazioni lavorative e di cambiare anche le frequentazioni le amicizie che valgono poco buone stelle